La Calabria investe sulla frutta guscio, 11 milioni per impianti di mandorlo, castagno, noce, nocciolo e pistacchio. Il grande risultato che questo bando consente di perseguire, commenta l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, consiste nel potenziamento della filiera calabrese della frutta guscio in termini di qualità e competitività, secondo gli intendimenti programmatici della Giunta guidata dal Presidente Occhiuto. Saranno finanziati nuovi impianti promuovendo al tempo stesso l'ammodernamento e l'efficientamento dei sistemi di irrigazione. C'eravamo prefissati un obiettivo, quello di investire in un settore nel quale in Calabria c'è tanto spazio e tanta disponibilità anche da parte degli agricoltori, che è il settore della frutta guscio. Abbiamo produzione di qualità che vanno naturalmente implementate e che vanno sostenute. Ed è per questo che abbiamo emanato nei mesi passati un bando sulla frutta guscio. Nel giro di pochi mesi siamo usciti già con la graduatoria provvisoria. Noi finanzieremo circa 300 ettari di nuovi mandorleti, 200 ettari di nuovi noccioleti, oltre 100 ettari di nuovi castagneti, che è una nostra cultura autoctona che va assolutamente rilanciata, e perfino 25 ettari di produzione di pistacchio, perché riteniamo che la Calabria possa misurarsi bene anche da questo punto di vista. Un risultato importante sul quale naturalmente continueremo a lavorare, perché l'implementazione della coltivazione di frutta guscio in Calabria può essere un obiettivo al quale mirare, soprattutto per consentire ai giovani di intraprendere un percorso nuovo nel settore agricolo.